Partiranno l'8 aprile i lavori per il potenziamento delle infrastrutture del collegamento ferroviario della tratta Pescara-Foggia di 150 km. Parliamo, siamo con l'ingegner Giovanni Ciardiello di RFI Abruzzo, responsabile RFI Abruzzo e sappiamo che RFI è società capofila del polo infrastrutture del gruppo FS italiane. Quindi dall'8 aprile questi importanti lavori parliamo di un investimento di circa 260 milioni di cui 100 milioni derivanti dal PNRR. Sì, essenzialmente ci saranno una serie di lavori di potenziamento di infrastruttura per garantirne in futuro una maggiore affidabilità. Diciamo non ci siamo fatti mancare niente, andremo a potenziare gli impianti tecnologici con i lavori propedeutici all'attivazione dell'apparato centrale computerizzato multistazione che gestirà in futuro la circolazione tra Pescara e Termoli. Interveremo nella Galleria San Donato a sud di Pescara con l'installazione di un sistema slab track che essenzialmente consiste nella sostituzione dell'attuale sede ferroviaria con dei prefabbricati in cemento armato. Faremo una manutenzione straordinaria di tutto il sistema di trazione elettrica. Qui siamo a San Vito? Qui siamo a San Vito, in particolar modo l'evento trainante è stato proprio l'intervento che faremo nella Galleria San Giovanni, galleria lunga 9 chilometri e 311 metri, dove andremo a fare riemergere la cunetta centrale, una cunetta che si trova poggiata all'arco rovescio della galleria, attualmente sommersa dal Pietrisco, quindi andremo a scoprirla. Ecco lei è in mano. Sì, ho in mano un po' di calcare che nel tempo si è andato a consolidare e non permette il normale deflusso dell'acqua. Quindi essenzialmente il nostro lavoro constaterà nel far riemergere la cunetta, demolire il calcare che si è consolidato nel tempo. Dopodiché per permettere una futura più facile manutenzione andremo a innestare con dei sistemi a baionetta, delle paratie sulle attuali pareti della cunetta centrale e ricopriremo con una grata metallica, in modo che in futuro sarà molto più facile intervenire e non saremo costretti a interrompere ulteriormente la circolazione. Ripetiamo le date e come ovviamente ci saranno disagi per cui vi state organizzando per evitarli il più possibile. Sì, assolutamente. L'interruzione andrà dall'8 al 12 aprile, dopodiché verrà riattivata la circolazione il 13 e il 14, quindi il fine settimana si riavrà la circolazione dei treni e dopodiché concluderemo l'intervento nella settimana successiva dal 15 al 19. Si lavorerà a ritmo serrato? Serratissimo, stiamo parlando di 250 persone interessate a questi lavori, H24 naturalmente saremo sempre presenti sui cantieri.